Il leader del centrodestra lo decideranno gli italiani nelle prossime elezioni politiche. Le scelte per i seggi a Lodi, a Catanzaro, a Messina o a Desenzano riguardano i candidati sindaci e i consiglieri comunali. Chi farà il presidente del consiglio lo decidono gli italiani. Io penso all'interno del centrodestra, io lavoro perché sia un centrodestra unito, a me interessa che vinca il centrodestra e che vada avanti il centrodestra. Se la Lega avesse personalmente in tanti comuni un risultato eclatante, ma perdessimo, non vado da nessuna parte. Non svelo un mistero se dico che tutti quelli che sono intervenuti hanno fatto solo proposte guardando avanti e non c'è stata mezza polemica o mezzo tono o mezzo accenno sulla Russia, sui vaccini, sulla benzina, sull'autonomia. Sono state solo e soltanto proposte propositive. Però, ripeto, chiedere al segretario se qualcuno l'ha messo in discussione è poco carino. Chiedetelo a tutti gli altri così almeno la risposta sarà più super partes.